Sarà la tradizionale festa del mare, il SISAN, in programma sabato 9 luglio ad inaugurare l'Arena del Mare di Salerno, un'occasione di riflessione con i principali protagonisti a partire dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata sul futuro della portualità in Italia e nel mondo con l'intento di assicurare un costante sviluppo di traffico, merci e passeggeri. Dopo uno straordinario 2014 e anche il 2015 abbiamo registrato un'ottima performance con incrementi da record europei per volumi di merce movimentata, così come anche il traffico crucieristico ha fatto registrare eccellenti trend positivi. Così orgoglioso è il presidente Andrea Annunziata nel corso della presentazione del cartellone degli eventi all'Arena del Mare che si aprirà proprio sabato con il SISAN Salerno, la festa del mare alle 20.30 con un primo incontro, mentre al termine del dibattito ci sarà cabaret con Barbara Forie, Gennaro De Rosa e l'esibizione di Gigi Finizio in concerto. Auguriamo una stagione bellissima fatta di dibattiti sul mare, sull'economia del mare, le prospettive per i giovani, per le famiglie che per davvero diventa un'importante occasione di lavoro non solo per il futuro ma già nell'immediato, per il grande successo che sta avendo il porto di Salerno in tutto il mondo. Cresciamo sempre di più nonostante le opere in corso e nonostante la grande opera di modernizzazione del nostro scalo si stia completando con le grandi opere delle gallerie del dragaggio e dell'imboccatura, però insomma voglio dire anche quest'anno celebriamo un anno straordinario di successi e badate crescere con i cantieri non è sempre facile e invece noi ci siamo riusciti. Figuriamoci il 2017 quando tutto sarà completato come crescerà questo porto e che possibilità darà ai tanti giovani di occupazione. Perciò parliamo di queste cose alla città nei diversi incontri che faremo in estate, non trascurando perché quella poi sarà una parte importantissima, la parte degli spettacoli, della cultura, dei confronti. Il 9, ripeto, inauguriamo e non voglio spaventare nessuno. Venite in tanti e staremo giusto mezz'ora a parlare noi rappresentanti, presidenti perché siamo un sacco di presidenti, perché poi per mezz'ora occuperemo questo spazio di informazione che è utile che tutti sappiano, che tutti recepiscono e dopodiché ci sarà una serata straordinaria, bellissima con questo cantante nostrano, Gigi Finizio, per cui passeremo insieme una bella serata. Trattanto crescono i consensi invece per Andrea Annunziata, c'è il placet anche di Caldoro per la sua candidatura alla Torità Portuale. Non lo so, io continuo a lavorare a Salerno, poi vediamo.